Ciao ragazzi, allora penso che sia chiaro adesso perché io ho voluto prendermi in questo periodo, volevo stare ben lontano da gente seria, sincera, da veri gentlemen. E ho dato il giusto peso alle cose vere e alle persone vere nella mia vita, perché non mi andava di perdere tempo, perché c'è una cosa bellissima chiamata karma nella vita. E non importa quello che la gente pensa di te, il tempo ha sempre le risposte giuste. Quindi sono vivo, sto bene e tutto piano piano verrà fuori. Ciao. Detto questo spero che persone a cui voglio veramente bene trovino prima di tutto se stesse, in secondo luogo qualcuno che vuole loro veramente bene, voglia bene a loro, la loro storia, il loro passato. Non c'è bisogno che io commenti troppo perché questa cosa si commenta da sola. Spero che alcuni di voi si ricredano un pochino. Vi mando un bacione, un abbraccione, insomma decidete voi. Cari nipotini, io credo che questa di Federico Massaro sia una frecciatina non neanche tanto velata a Sergio Duttavi. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti. Vi aspetto, ciao. Ciao.